Grazie Guido, grazie anche al nostro istruttore e grazie a John, sono un frullatore, perché tante idee mi hanno indotto a ripensare il filo conduttore della mia chiacchierata oggi con voi, soprattutto parlando delle nuove generazioni, anzi quello che io ho adesso è un grandissimo entusiasmo, una sensazione di grandissima felicità perché vedo che potrò lavorare con tantissimi presidenti, con le nuove generazioni, perché tanto si è parlato oggi di Interat, si è parlato di Rotarat, noi membri effettivi del nostro Rotary li consideriamo ancora molto importanti per il nostro lavoro con le nuove generazioni, e quindi come sviluppare le nuove leadership? Il Rotary ha sempre avuto un grandissimo impegno e ha considerato un valore parlare e impegnarsi con le nuove generazioni, pensate che soltanto dopo 15 anni dalla fondazione, nel 1920, un Rotary Club degli Stati Uniti, il Rotary Club di New York, persò di dedicare praticamente delle iniziative ai giovani collegandosi ad altre iniziative comunitarie nelle cosiddette settimane dei ragazzi, le Boys Week, che poi nel 1934 coinvolsero anche le ragazze e la finalità era quella poi di dedicare uno spazio, il cosiddetto Boys Work, ad un lavoro che portasse alla conoscenza delle tematiche giovanili e alla risoluzione dei problemi che interessavano le nuove generazioni. Ma dobbiamo arrivare agli anni 50 perché il Rotary International decida di interessare praticamente i giovani al service e allargare praticamente la loro visione del mondo, a dare a queste nuove generazioni collegate nei vari club una visione internazionale. E arriviamo al 1962 in cui nasce il programma Interat. Il nome International Action sta a significare una comunicazione, una progettualità che però interessa i club di più nazioni, sempre con un servizio che è al centro praticamente della loro azione. Ma vedremo poi come. I programmi per le nuove generazioni. Mi sento oggi come Cornelia che presenta i suoi gioielli ed è forse una definizione un po' presuntuosa, ma oggi le nuove generazioni sono rappresentate da programmi per l'Interat, lo scambio giovani, i Rila e i New Generation Service. Sono programmi meravigliosi in cui praticamente viene sottolineata la nostra voglia e interesse di Rotariani di creare appunto nuove leadership. E l'Interat sono carrellate veloci perché chiaramente noi non ci siamo incontrati prima, ci siamo incontrati con i presidenti nei gruppi di autoformazione, ma l'Interat è rivolto ai ragazzi dai 12 ai 18 anni. Sappiamo che nell'Interat e nel mondo ci sono 14.911 club con più di 300.000 soci in 145 paesi, ma anche il distretto 2080 nel nostro anno, nell'anno attuale, ha 18, anzi 19 club, più di 300 soci in tre zone. Naturalmente noi non possiamo considerare questo come un dato relativo al lavoro di questo anno del governatore Andrea, ma dobbiamo ringraziare l'azione delle svolta, nonostante la pandemia, sia del governatore Mollicone, del governatore Bicciolo, di Alessio Marino, e anche del mio coordinatore Carlo Notola Diega. L'Interat ha subito un grossissimo impulso, abbiamo Interat comunitari e Interat scolastici, hanno lavorato benissimo gli RD e Interat in questo anno, quindi noi abbiamo soprattutto prospettive di miglioramento. Ringrazio soprattutto per il grandissimo lavoro svolto nell'Interat Giovanna Spadaro, che secondo me ha dato un inizio e promozione di questo programma, spendendosi anima e cuore, e creando veramente un programma all'interno del nostro distretto, che è di tutto rispetto. Ma i nostri obiettivi, cosa vogliamo fare noi con l'Interat, vogliamo aiutarli a sviluppare delle lotti di leadership, senz'altro, e vogliamo soprattutto tener conto del valore del servizio, ma dobbiamo sempre pensare che noi dobbiamo pensare al loro motto, fare del bene divertendosi. E andiamo avanti con i programmi. New Generation Service Change è un programma che è rivolto agli studenti che vanno dai 18 ai 30 anni, non occorre essere rotarattiani, hanno la caratteristica di avere degli obiettivi professionali e dei progetti umanitari, e sono generalmente degli scambi che sono individuati o di gruppo, importante, dove non devono essere obbligatoriamente reciproci e portano alla unione dello scambio, quindi di obiettivi professionali, insieme a quelli del servizio umanitario. Sono Maria Grazia Pitiu, sono socia rotarattiana e nell'estate del 2018 ho partecipato al programma di scambio NGSE della durata di un mese in Brasile, nelle città di Brasilia, capitale della federazione brasiliana, e Aracaju, capitale dello Stato sergipano. In linea con il percorso di studi in giurisprudenza, il programma di scambio è consistito in un tirocino giuridico, veicolato da molteplici attività, di tipo sia processuale, consistite nella partecipazione udiense nei tribunali di Aracaju, nonché della Corte Suprema brasiliana in ambito lavoristico, nonché di tipo universitario. Consistite per lo più nella partecipazione a lezioni universitarie di ambito civilistico. All'esperienza professionale di grande pregio si è unita un'esperienza umana di altrettanto rilievo, che mi ha consentito un'esperienza di profonda immersione nella cultura brasiliana. Sono pertanto pienamente grata al Rotary per questa esperienza di completa formazione. Concordo, la registrazione non è delle migliori e probabilmente molti di voi non hanno potuto cogliere chiaramente l'aspetto più importante, che era quello di un ringraziamento di una giovane universitaria prossima alla laurea in giurisprudenza, dell'opportunità avuta in una nazione molto lontana da noi di poter confrontare il diritto italiano col diritto brasiliano, conoscere una cultura e soprattutto misurarsi con le proprie forze nel portare avanti anche l'essere italiana e avere quindi la sua unicità. Lo scambio giovani lo conoscete tutti, i primi probabilmente sono nati nel 29, lo scambio giovane attuale nasce negli anni 60 e tra i primi scambi il più significativo, quello che ha significato una prima possibilità di creare una pace, uno scambio per la pace, è stato quello della giovane Yoko Sekimoto, che è partita dal Giappone verso l'Australia nel dopoguerra. Questo scambio sapete a chi è rivolto, ma andiamo avanti. Sappiamo che ci sono scambi a lungo e breve termine, i verifici dello scambio sono tantissimi, li leggete qua, e tra l'altro la nostra commissione scambio giovani finalmente riparte dal 1 luglio 2022 con 36 richieste di scambi lunghi, 33 studenti selezionati per scambi brevi e con camp selezionati 3 ragazzi. Capite bene che questo lavoro con le nuove generazioni è un lavoro estremamente complesso. Nell'anno 2016-2017 ho partecipato al progetto Scambio Giovani e sono andato per un anno in Brasile. Fare un anno all'estero è davvero una esperienza incredibile, anche se non è tutta a rose e fiori. Effettivamente la lontananza da casa, il problema di una nuova lingua, l'interfacciarsi a una nuova cultura, possono in un primo momento spaventare. Tuttavia queste non sono altro che sfide in più per crescere, maturare e uscire da quella che è la propria zona di comfort. Quello che alla fine ho appreso nell'anno passato in un altro paese è la mia capacità di riuscire ad interagire con persone di nazionalità, culture e abitudini diverse, permettendomi così di conoscere tanti nuovi amici con cui ancora oggi, a distanza di 5 anni, sono ancora molto legato essendo tutti i giorni, o quasi perlomeno. Queste relazioni inoltre mi hanno dato una maggiore apertura mentale, anche a livello internazionale e anche per quanto riguarda progetti e possibili progetti futuri nel mondo lavorativo. In conclusione, sono convinto che l'esperienza all'estero sia una grande possibilità di crescita personale e che rifarei volentieri. Altro programma importantissimo per le nuove generazioni, il programma RILA. Voi sapete che il RILA è un'esperienza intensiva di leadership che è operata dai Rotary Club e distretti, rivolta ai giovani tra i 14 e i 30 anni. Qual è l'obiettivo? È sempre quello di sviluppare le doti di leader, creare occasioni di divertimento, fare nuove conoscenze, espandere le connessioni. Quindi vedete come i programmi per le nuove generazioni sono tutti funzionali a formare praticamente dei nuovi leader. Leader per età, leader che possono essere studenti delle scuole secondarie, studenti universitari, giovani professionisti, ognuno con un obiettivo. Ma in tutti è importante acquisire delle strategie di formazione personale utili anche per poter eventualmente capire qual è l'obiettivo della loro vita. E allora che cosa dobbiamo pensare come programma per le nuove generazioni? e riefacciandomi al titolo quali sono praticamente le nuove leadership e come vogliamo formare i nostri nuovi leader. Abbiamo capito che il leader non si può essere da soli, che il leader sia un esempio, che deve essere, come dicevano gli antichi greci, sicuramente una persona che ha serietà, che ha moralità. Ma comunque bisogna probabilmente imparare a diventare dei leader, cioè avere la possibilità di imparare, di formarsi, di poter sviluppare delle idee, dei progetti, partecipare responsabilmente anche al cammino della propria vita, e avere la capacità di essere ispirati e forse la fortuna di trovare delle persone che possano essere ispiratrici di determinate condotte. Ecco, quello che probabilmente noi dovremmo fare in un piano strategico pluriennale che interessa le nostre nuove generazioni è forse quello di ripensare il linguaggio e anche le modalità di confronto che noi dobbiamo avere con queste nuove generazioni per sviluppare tutte quelle leadership che già nei nostri programmi esistono attualmente. Noi abbiamo grandissime professionalità nel nostro interno, abbiamo delle commissioni bellissime, diversità, equità, inclusione, abbiamo una meravigliosa commissione progetti e abbiamo anche un'azione professionale che ci permettono insieme alla commissione formazione di creare che cosa? Mi è piaciuta moltissimo, John, l'idea dell'onda che parte ma che ha un vortice, un vortice di idee, un vortice di progetti, un vortice di aria, aria che ti serve per creare un'onda grande e con noi dobbiamo creare una formazione condivisa, una formazione bidirezionale, che sia in grado di portare innovazione, che sia anche in grado di rischiare talvolta, ma che porti realmente a una formazione di nuove leadership. Quindi il piano strategico sarà quello di lavorare con tutte le commissioni in maniera tale da poter portare grandissimo fiato ai nostri ragazzi. Chiaramente abbiamo una protezione dei giovani, ma ritengo che abbiamo già parlato di leader, abbiamo parlato di leadership, abbiamo parlato della importanza dei seguaci, i seguaci devono lavorare per comprendere il loro leader ed essere a loro volta dei leader che comprendono i seguaci. E allora quello che per me è importante è presentarvi chi aiuterà me nella gestione di questo programma molto ambizioso e soprattutto quello che nel ringraziamento totale noi abbiamo un compito, che è quello di tracciare, indicare la strada, ma non di fare la strada. La strada la devono fare i ragazzi. Noi dobbiamo assolutamente indicare ed essere al loro servizio, fianco a fianco, e quindi con amore, attenzione, sosteniamoli sempre, anche quando sbagliano e si devono rialzare, perché con la nostra esperienza sappiamo che quella è solo una tappa per andare sempre più avanti. Grazie. 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 Grazie.